Ciao a tutti e benvenuto in questo nuovo video. Finalmente ho fatto una tier list dei fucili della fanteria della seconda guerra mondiale. Sia ben chiaro, innanzitutto per fare questa lista ci sono da tenere in conto due cose. La prima è che è una lista abbastanza decontestualizzata, ovvero è una mia opinione personale sull'utilizzo della singola arma individuale. Non viene tenuta in considerazione per esempio la logistica, la produzione e queste cose così. Sì, notariamente non mi piace molto il Mosin, ma il Mosin è un'arma che vinse la guerra, che è facile da produrre. Quindi non stiamo valutando le armi per il loro impatto nella guerra, ma esclusivamente prese individualmente. La seconda premessa che devo fare è che ho dovuto escludere tantissime armi da questa lista. Ho dovuto fare una lunghissima preselezione. Innanzitutto ho escluso tutte quelle armi che sono essenzialmente prototipi e cose poco utilizzate. Ho escluso inoltre armi che non sono fucili da fanteria, come per esempio i mitra o le mitra avviatrici leggere. E rientro soltanto nell'arma standard della fanteria. Ultima premessa, ho dovuto anche lasciare fuori varianti di una stessa arma. Per esempio abbiamo nella lista il Mauser K98, ma ci furono tantissimi altri Mauser. I Mauser polacchi, i Mauser belga, i Mauser svedesi, dati alla Finlandia. Tantissime armi diverse che sono però molto simili. L'ho escluso da questa lista, se no avrei 100 diverse armi delle quali trattare. Bene, andiamo però dritti al sodo. La prima che abbiamo è l'STG44. Nell'STG44 ho parlato veramente tanto. È un'ottima arma, è un'arma estremamente moderna nella sua ergonomia, nel suo concetto. È un'arma che ancora oggi non è affatto obsoleta. Vi potrei presentare uno Storm Givir oggi, equipaggiarci tutta la fanteria nel 2020 non farebbe la benché minima differenza probabilmente. Se non avete visto il mio video al riguardo, andatelo sicuramente a recuperare. Lo Storm Givir 44 va nella categoria più in alta in assoluto, la categoria A. Abbiamo poi la VS-36, un'arma che non molti conoscono, ma che è il predecessore dell'SVT-40. Qui voglio fare un altro excursus molto importante. La VS-36 non è un'ottima arma, è un'arma che ha problemi ergonomicamente ok, ma internamente non è delle migliori. Fu un tentativo tra il creare il fucile alla battaglia e un'arma automatica, una specie di mitragliatrice leggera, un po' quello che hanno fatto gli americani con il bar. Ecco, molti di voi magari conoscono queste armi dai videogiochi. I videogiochi ovviamente non dimostrano la realtà delle cose. Secondo me, secondo molti altri, un'arma a caricamento semiautomatico-automatico, quindi autocaricante, è di un ordine di grandezza superiore a qualunque bolt action. C'è una differenza fondamentale nelle capacità dell'arma se semiautomatica o bolt action. E anche un scarso semiautomatico, per certi versi, per molti versi fondamentali nell'utilizzo, è meglio di un buon bolt action. Non si riuscirà mai, anche con tutto l'addestramento del mondo, a far utilizzare meglio un bolt action che un semiautomatico. Il semiautomatico è davvero un ordine di grandezza superiore, non è un po' meglio dei semiautomatici, è un gradino successivo in su. Quindi in questa lista non vedrete mai un bolt action che supera un semiautomatico, perché c'è una differenza fondamentale e chiave, e ci rendiamo a spiegarvela. Detto ciò, la VS36 non è un buon semiautomatico-automatico, è meglio del delmosin probabilmente che i russi utilizzavano, rientra quindi nella categoria C probabilmente. Non è il massimo, ma ecco, non è un bolt action, semplicemente questa è la differenza importante. Abbiamo poi la Risaka Type 99. I giapponesi utilizzavano diversi modelli, anche qui per semplicità ne metto soltanto uno. In particolare mischiavano sia i vecchi Type 38 con i Type 99 che sono in un altro calibro. La qualità dei Type 99 scende man mano che la guerra va avanti, si cerca un po' di semplificare la produzione, soprattutto dei componenti come il legno. Però l'azione rimane estremamente solida e ben funzionante. È un'azione Mauser, oserei dire, anche migliorata. E in quanto tale è veramente un ottimo bolt action all'utilizzo. È però, pur sempre, un bolt action. Nella mia lista soggettiva, come sempre, va nella categoria D. La massima alla quale un qualunque bolt action può aspirare, per il semplice motivo che il suo utilizzo, ecco, è un gradino di magnitudine sotto a quello di qualunque semiautomatico. Abbiamo poi il carcano. Il carcano è un'arma da una parte sottovalutata. Non è particolarmente complicato, non è un'arma eccellente. Anche qui ci saranno due versioni diverse utilizzate dall'esercito. Il 91, il vecchio fucile della Prima Guerra Mondiale, e il 38, un'arma ammodernata in un altro calibro, decisamente migliore del vecchio 6,5. Nonostante questo, non amo molto l'Eclipse Mannlicher. L'arma, sì, è semplice. Non è nelle migliori, ma non è neanche la peggiore. Il carcano 38 correggia un po' dei difetti che ha il carcano 91. Comunque li devo accorpare nella stessa categoria. Non è il peggiore, ma non è il migliore. Entra nella categoria E. Abbiamo un'arma poi che pochi conoscono, il G41 della Mauser. Dovete sapere che ci sono due G41. Molti di voi probabilmente non hanno sentito neanche parlare del G41, conoscono il più famoso G43. Il G41 fu il primo vero tentativo da parte dell'esercito tedesco di adottare un semi-automatico. Ci furono due design che entrarono in questa competizione. Entrambi vennero prodotti, quello della Mauser meno, anche perché era l'arma peggiore. Il Mauser 41 è eccessivamente complicato. Vi consiglio di vedere il video di Forgotten Weapons, purtroppo non è uno da farvi vedere in questo momento, ma vedrete che casino di complicatezza è. Nonostante tutto, se tenuto, pulito e ben curato, può essere una buona arma. Ed è comunque un semi-automatico. Per questo rientra nella stessa categoria dell'AVS-36, ovvero semi-automatici che hanno problemi ma sono pur sempre semi-automatici. Quindi categoria C. La M1 Garand, il famosissimo M1 Garand. Gli americani furono gli unici che riuscirono ad equipaggiare praticamente tutto l'esercito con un semi-automatico. Utilizzarono anche ancora gli Springfield M1903. Del resto c'è in questa lista. Il Garand fu un'ottima arma. Non ebbe un po' la vita, in un certo senso, che ebbe lo Stormgivir dopo la guerra. Oggi l'M1 Garand è obsoleto, lo Stormgivir no. L'M1 Garand segna un po' la fine dello sviluppo di un certo concetto. Dopo l'M1 viene l'M14 e non è una buon'arma, è un'arma alla fine degli anni 30. Quindi non avrà la stessa evoluzione tecnica e concettuale che lo Stormgivir avrà. Però nel contesto della seconda guerra mondiale fu un'arma estremamente avanzata, molto affidabile per l'epoca. E una cosa in più che l'affanteria americana aveva rispetto ai propri avversari. L'M1 Garand va nella categoria A. L'Enfield numero 4. Io adoro i L'Enfield, sono i miei bolt action preferiti. Anche se per qualche motivo non è mai finito uno sul canale, perché non ne ho trovato uno adesso che sto in Polonia. Sono abbastanza rari da queste parti. L'M1 ha un'ottima ergonomia e ottime mine. Nel mio utilizzo pratico probabilmente è il mio bolt action preferito di questa lista. Non è il mio preferito in assoluto, ma perché il mio preferito in assoluto non l'ho messo in questa lista per vari motivi. Non fu mai veramente utilizzato nella seconda guerra mondiale. Fu un'arma di seconda linea, parlo del P14 e del P17. Fu un'arma della prima guerra mondiale. Comunque è un bolt action, anche se ottimo, me lo sento di mettere nella categoria D. Molti dimenticano che la Cina ha avuto un ruolo fondamentale, anche se non lo pensiamo come un belligerante della seconda guerra mondiale, perché non era parte degli alleati né di nessuno schieramento, ma da prima del 39 combatteva contro il Giappone e la maggior parte delle forze giapponesi della seconda guerra mondiale non erano impiegate nella lotta con gli americani, ma con i cinesi. Quindi lo sforzo cinese, le milioni di vittime che i cinesi hanno avuto, sono stati fondamentali per contenere l'espansione giapponese. Quindi mi sono sentito di mettere quello che è un po' il loro fucile più diffuso, ovvero il Hanyang 88, copia del Gewehr 88 tedesco. Attenzione, non Mauser 88, non esiste il Mauser 88, esiste il Gewehr 88. Il Gewehr 88 appartiene ancora a quella prima generazione di bolt action militari a polvere in fume, fu una risposta diretta alle belle francese, e in quanto tale non è perfetto. È un'arma che personalmente mi affascina, vorrei tantissimo avere un Gewehr 88 o un Hanyang 88, perché mi piacciono le cose strane e quelle che non funzionano così bene come dovrebbero. Detto questo, non è una buona arma. È un'arma che venne sì prodotta in milioni dai cinesi, anche utilizzata ampiamente, ma ha parecchi difetti che armi di generazioni successive correggono. Lo metto quindi nella categoria F, non è una buona arma. Eccoci con l'SVT-40, famosissimo, lo conosciamo tutti. Un buon fucile da battaglia, ergonomico, caricatore di cicolpi amovibile, ha qualche problema di precisione sulla dispersione verticale. Non è un'ottima arma da tiratore scelto, infatti vendero molti equipaggiati con l'ottica, ma molti preferivano addirittura il Mosin. Nonostante ciò, fu secondo me un buon tentativo di cercare di introdurre un'arma semi-automatica dalla fanteria. È piacevole all'utilizzo, se vi capita, sparatelo. È una buona arma in generale. Non è però lo Shurri Vier nell'M1 Garand. Entra nella categoria B. Ottime armi, ma non perfette, ecco. Avevo accennato al 2G41 e abbiamo qui il secondo, il G41 della Valter. Il G41 della Valter era meglio del G41 della Mauser ed è molto simile al G43. I ragazzi di Interrange mostrano semplicemente come il G43 sia un'evoluzione del G41, ma talmente simile che si può prendere il blocco del portatturatore del G41 e metterlo sul G43 e funziona comunque. Talmente simile l'arma. La vera differenza tra il G41 Valter e il G43 è che il G41 utilizza un sistema gas non proprio affidabile. Il cosiddetto sistema Bang o Bang, che non è un onomatopeo, ma è un cognome danese. Quindi se qualcuno parla danese mi dicesse come si dice correttamente questo cognome. Il sistema cosiddetto attrappola di gas non è la migliore idea del mondo. Inoltre non ha un caricatore ammovibile, ma viene alimentato con delle stripper clip. È meglio del G41 della Mauser, ma presenta comunque dei problemi. Quindi sono indeciso se metterlo nella categoria B o C, ma non lo credo un pari all'SVT40 e lo credo più un pari al G41 della Mauser, quindi finisce nella categoria C. Abbiamo poi un fucile di cui molti si dimenticano, ma fu importantissimo soprattutto nella Prima Guerra Mondiale. Nella Seconda Guerra Mondiale ebbe da una parte parecchi ruoli secondari, truppe di guarnigione, reparti di polizia, divisioni di occupazione. Venne anche utilizzato da molti degli alleati, la Germania nazista, primi fra tutti gli ungheresi, essendo un fucile che viene dall'impero austro-ungarico. I tedeschi ne presero molti con l'Anschluss dell'Austria e gli ungheresi ne avevano anche parecchi. È il Mannlicher 1895. È un'arma che inizia ad essere un po' vecchia per la Seconda Guerra Mondiale. È un straight pull, a me non fanno impazzire gli straight pull. Tra l'altro, sia ben chiaro, non ho incluso un'altra arma molto famosa all'epoca, che è un ottimo fucile, che è lo Schmidt-Rubin, il K-31 svizzero. Non l'ho incluso perché non ha partecipato alla guerra. Perché se dovevo includere il K-31, piccola parentesi, dovevo includere tante altre armi dell'epoca che neanche se hanno partecipato alla guerra, per fare una lista. Invece io voglio parlare specificamente delle armi che hanno visto del combattimento in buoni numeri. In questo il Mannlicher utilizza una cartuccia vecchia, non è il massimo, utilizza le clip Mannlicher che a me personalmente non piacciono. Non è una cattiva arma però. Rientra nella stessa categoria del carcano, diciamo. Sono più o meno equivalenti come utilizzo, quindi la categoria E. Abbiamo poi il K-98. Sul K-98 ovviamente c'è già un video sul canale sul K-98 e sul suo predecessore, il Gewehr 1898. Buon bolt action in generale. Non lo amo come Lee Enfield, ma comunque lo considero un ottimo bolt action. Va nella categoria D. Se volete sapere più approfonditamente cosa ne penso, vi invito a guardare quel video, appunto. Abbiamo poi lo short magazine Lee Enfield. Lo Smellet, o lo Smelly, come lo possiamo chiamare, era il fucile standard del Commonwealth nella Prima Guerra Mondiale. Gli inglesi poi passarono a Lee Enfield numero 4, ma non le nazioni del Commonwealth come per esempio l'Australia e la Nuova Zelanda. Essi continuarono a utilizzare versioni un po' modernizzate del short magazine Lee Enfield. Un buon fucile bolt action, non perfetto come Lee Enfield numero 4, ma comunque lo metterei in questa categoria dei migliori bolt action. Ecco, Mass 36. Col Mass 36 vi confesso che non ho così tanta esperienza. Premessa, non doveva essere il fucile standard della fanteria. I francesi volevano armare tutti quanti con dei fucili semiautomatici, mentre il Mass 36 doveva essere più per truppe secondarie, truppe che stavano dietro alla prima linea. Così non fu. E bisogna considerare il progetto del Mass 36 in quest'ottica, come un'arma da seconda linea. Non è ideale, non è perfetto. Non ha qualità eccellenti, ma non ha neanche dei grossi difetti. L'azione è solida, sì. Per il resto ha qualche cosa, dubbi nel suo utilizzo. Non lo conosco così bene. L'ho soltanto maneggiato, e qui ve lo confesso, vorrei spararlo. Qui la mia opinione potrebbe cambiare, ovviamente, ma rientra per adesso nella categoria E. Non è il miglior bolt action che abbia mai visto o maneggiato, ma non è neanche il peggiore. Abbiamo poi lo Springfield M1903. Lo Springfield è una copia in salsa americana del Mauser. Essendo un Mauser è un ottimo fucile, come l'Arisaka, senza dilungarci troppo, rientra nella categoria D. I buoni bolt action. Quando arriviamo alla seconda guerra mondiale, la maggior parte dei bolt action un po' peggiori, che abbiamo visto ampiamente magari nella prima guerra mondiale, sono stati già scremati. Soltanto i migliori rimangono, con una notevole eccezione alla quale arriveremo presto. G43. Il G43 corregge parecchi dei problemi del G41 Walter. Anche se non è perfetto, in particolare il sistema del gas dà troppo gas al pistone, a lungo andare si spacca. Se siete fortunati di avere un G43, o volete comprare un G43 vero, dovete controllare che il sistema del gas sia stato modificato post-bellicamente, perché vi rischia di spaccarvi sin mano e esplodervi in faccia. Non sto scherzando, è così. Per il resto un'arma decente. Lo metterei nella stessa categoria con l'SVT40. Armi semi-automatiche buone, ma non perfette. FG-42. Sull'FG-42 anche qui sono un po' combattuto, non l'ho mai sparato, l'ho soltanto maneggiato. Fu una buona arma, ma da una parte mi sembra un po' un vicolo cieco per quanto riguarda la sua configurazione, questa strana configurazione che potremmo chiamare un mezzo bullpup non proprio. Per assurdo, molti non sanno, ma l'M60 americano è molto simile all'FG-42. La mitragliatrice intendo. Fu sicuramente un'arma che ebbe successo nel fare quello che doveva fare, ovvero equipaggiare i paracadutisti e dargli più potenza di fuoco. E in questo è eccellente. Un caricatore da venticolpi che prende nessuno se non lo Sturmgewehr aveva. Possibilità di essere una mitragliatrice leggera. Fantastico. Un po' pesante e un po' non perfetto in altre cose per quanto riguarda l'ergonomia. Mi sento un po' tra la categoria A e B. Gli darò la categoria A, perché sicuramente è un'arma molto superiore al G43 e all'SVT40. Forse non lo sceglierei, se presentato con l'opzione di scegliere l'M1 Garand, l'SVT44, prenderei quelli e non l'FG42, ma comunque è meglio del G43 e dell'SVT40. Rientra nella categoria quindi delle armi ottime con un piccolo punto erogativo accanto. Alla fine c'è il Mosin. Il Mosin, secondo voi dove va a finire? Categoria F. Se volete sapere di più vedetevi il mio video sul Mosin. Non intendo sprecare più parole per parlare del Mosin. Grazie per aver visto questo video. Fatemi sapere quello che ne pensate. Sia ben chiaro, questa è una mia categoria personale. Come vedete, nessun fucile bolt action è superiore per me a un semiautomatico. Voi in particolare, voi tiratori, perché se sento opinioni di videogiocatori mi incazzo. Voi tiratori, ditemi cosa ne pensate se pensate di questa cosa, che qualunque semiautomatico è superiore a un bolt action. Beh, che dire, ci vediamo alla prossima. Grazie a tutti.